ciao ragazzuoli e benvenuti sul mio canale sono Onigod e come potete vedere la nuova puntata di Dragon Ball Z DLC 2 il risveglio del nuovo potere dopo aver sconfitto Golden Freezer anche nell'addestramento di Golden Freezer livello 250 oggi vi farò vedere l'addestramento che si trova vicino alla macchina del tempo quindi dovete cercare questo ok ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere la campanellina, di mettere un bel like dopo aver visto tutto il video e vi ricordo anche che il mio obiettivo è arrivare a 190 iscritti quindi me ne mancano 5 non chiedo tanto sono altri 5 iscritti detto questo esaminiamo questo allora principiante sarà sconfiggi 100 nemici e di livello 100 e noi lo facciamo ok ovviamente io già sono a livello massimo quindi anche volendo vi faccio fuori un attimo cioè non è che ci metto una vita solo che ci vorrà un po' e poi finendo l'addestramento non so cosa succederà e insieme nella combo è l'ho già fatto in teoria dovrebbe... ma io non ho... quando facciamo così dovremmo un ucciderli tutti... spero... la combo combinata... 50... e tu via... guarda... anche tu via... via... vai se non mi fa perdere tempo... via... ok sconfigge 3-5 minuti ok ho preso l'exp ma io ho tutto al massimo quindi i materiali non mi dispiace acqua divina acqua divina acqua ultra divina acqua ultra divina acqua mega divina acqua mega divina acqua mega divina per scusa dovrebbero impiegare un bel po' insieme per scusa dovrebbero impiegare un bel po' insieme eh no mi piace la sfera vai Vegeta oh madonna facciamo la combo combo nooo no 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 pensavo di faccia non fare così vai 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 uccidiamo tutti eeeh molti pennetti ah ma devo arrivare a 300 ah ma devo arrivare a 300 ci metterò una mica cosa ti 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 Allora Vai picchia 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 Oh no, non tira la testa Oh no, non tira la testa Oh no, non finisce più Vai picchia 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 Facciamo la gomma, dai Dai, dai, manca poco Bellissimo Dai Allora ragazzuole Per chi vuole fare esperienza Conviene fare l'addestramento Quindi Vabbè, io ho fallito Perché ci ho messo più di due minuti Comunque Il succo dell'addestramento E' proprio questo Parte dal livello 100 120 150 Va sempre a salire Ora io non so quanto è il livello massimo Però E' inutile che sto a fare tutto il video Dell'addestramento Perché non ha senso Io vi ho fatto vedere I vari passaggi Ok? Detto questo Ho una piccola idea Che ho visto anche negli altri canali Cosa che è veramente stupendo Che portano le mod Di Di Dragomogetta A caca Io non l'ho mai fatto Però Se voi mi scrivete qua sotto nei commenti Che volete anche le mod Io porterò le mod Sul mio canale Quindi aspetto Anche no Li porterò lo stesso dei mod Quindi spero che vi piaceranno E devo solo capire come funziona Un po' lo li porto Quindi Detto questo Noi Ci vediamo Al prossimo video Di Dragomogetta E caca Te spero Con i mod E niente Ciao Ciao